Buongiorno a tutti, benvenuti a Stories di Successo del Sole 24 Ore nella nostra nuova collocazione oraria alle 12.30. Come vedete io sono virtualmente in Galleria Vittorio Emanuele a Milano perché oggi parliamo proprio di Milano e di come conoscere meglio la città attraverso i social perché con me è ospite qui in studio Francesca Noè che è la founder di A Milano Puoi. Ciao Francesca, benvenuta. Ciao Alessia, buongiorno a tutti e a tutti. Allora, A Milano Puoi è un progetto editoriale che ci aiuta, vi aiuta a conoscere la città non solo dai ristoranti come spesso si trovano consigli sui social ma anche la cultura, anche il teatro, il cinema. Francesca ci racconterà tutti i dettagli del suo progetto che io ho scoperto, le ho confessato prima di questa intervista, ho scoperto appena arrivata a Milano perché io sono romana, trapiantata a Milano e tra i primi account social che mi hanno consigliato c'era proprio A Milano Puoi per appunto scoprire la città e i suoi segreti. Come al solito siamo in diretta sul sito e su tutti i social del Sole24ore, quindi attraverso i canali social, nello spazio dei commenti potete partecipare a questa intervista e fare tutte le domande che volete a Francesca. Allora, mi taccio e do la parola a te. Raccontiamo com'è nata a Milano Puoi. Innanzitutto grazie per questa presentazione, io sono molto contenta che ti abbiano suggerito perché credo che sia il passaparola poi, il valore o quello che rende un progetto in quel momento funzionante, diciamo così sano. Io ho iniziato semplicemente a condividere la mia città e in generale i consigli perché sono innamorata di questa città e perché tu vieni da Roma e lo sai, rispetto a Roma la bellezza è meno stentata in qualche modo, no? Per cui secondo me la bellezza di Milano è il poterla vivere, è il poter con le problematicità che ci sono adesso perché è una città molto impegnativa anche dal punto di vista economico, però sfruttare le opportunità che ti dà. Quindi il mio nasce proprio come un progetto sul territorio, quindi il desiderio era di spiegare tutto quello che la città offriva, ok? I ristoranti purtroppo durante il periodo della pandemia ovviamente ci si è un po' rivolti a quello perché il resto si è fermato, ma adesso stiamo ripartendo proprio dalle opportunità, quindi il cinema, il teatro, gli stacoli, gli eventi, le mostre, tutto quello che a Milano puoi fare. E poi come avrete visto probabilmente nelle storie di Instagram, Francesca ci ha detto, ci ha annunciato che farà qualche spoiler, darà qualche notizia di nuove opportunità per la community, perché è proprio la community la forza di questo progetto, che è nato nel 2016, giusto? E tu mi hai raccontato che era un progetto che non coinvolgeva tutta la tua attività, che non ti prendeva pienamente, ma poi è diventato la tua attività esclusiva, tu hai anche un team di lavoro. Assolutamente, io ho iniziato come hobby, nel senso che nel 2016 soprattutto il mondo dei social era molto diverso da adesso, non c'era l'idea che potesse diventare un vero e proprio business, a meno che non si fosse già ad un livello molto alto, quindi ho iniziato a condividere i consigli, come si possono condividere ad un'amica, ad un amico, e semplicemente nel mio tempo libero, quindi avevo un lavoro, lavoravo in un'agenzia di comunicazione, tra l'altro in un ambito sportivo, quindi proprio un altro settore. Completamente diverso. Esatto, e da lì in poi diciamo che portandolo sempre a lato e dedicando di tutto il tempo libero che avevo sostanzialmente perché mi piaceva tanto farlo, è cresciuto e nel tempo mi sono potuta ritagliare sempre più spazio e sono passata a considerare il mio lavoro principale, ovviamente nel momento in cui era sostenibile. E pian pianino crescendo abbiamo iniziato a creare cose sul territorio, quindi eventi, mi sono allargata con un team di redazione che fornisce contenuti sul blog, e adesso pian pianino mi aiuta sempre di più anche in tutto ciò che è offline, perché essendo appunto un progetto sul territorio l'obiettivo è creare opportunità su Milano di diverso tipo. E quindi sì, diciamo che è stato bello questo passaggio, è stato bello poter trasformare una passione nel mio lavoro principale, mi sento molto privilegiata per questo. Quindi è una storia imprenditoriale sui social, proprio una classica storia di successo, una storia che molto si confà al nostro format. E nel 2022 è uscita anche la tua prima guida edita da De Agostini, quindi una guida cartacea, a me fa sempre, mi incuriosisce, mi stupisce un po' il fatto che dai social poi si arrivi sempre, si passi. Si torna indietro quasi, ma in un senso però di… Esatto, un po' cross mediale direi. Esatto, perché in realtà è una cosa che dà un'autorevolezza ovviamente, che ci ha dato molta soddisfazione, dico sì perché parlo di me e anche della mia redazione che ha contribuito a questo progetto. La verità poi è stata che il libro è stato forse una delle cose più dolorose di questo progetto, nel senso che io ho firmato prima della pandemia e quindi è stato un progetto che si è trascinato per anni, perché poi fissa la pubblicazione, oddio no, però non possiamo lanciare il messaggio di uscire, perché ovviamente era un libro che coinvolgeva il fare cose in città. E quindi è stato un po' doloroso, devo dire la verità, però alla fine insomma ne siamo usciti, la soddisfazione comunque di vedere in libreria il proprio nome è importante, ecco. Ma come la domanda che mi incuriosisce, intanto sto guardando i vostri commenti sui social, come è iniziata questa tua passione per recensire la tua città? Perché poi chi la segue, sono moltissimi, sia su Instagram ma anche su TikTok, vede che Francesca e il suo team proprio sperimentano di persona non solo tutte le delizie no gastronomiche della città, ma anche eventi culturali. È una tua passione? Sì, allora io in generale sono una persona iperattiva, veramente ci sono i miei amici, soprattutto i miei fidanzati che mi dicono stai calma. E ho cercato di incanalare tutte queste energie in qualcosa che fosse anche in un qualche modo produttivo, se non in un senso economico, quantomeno di qualcosa che offrivo anche agli altri con cui condividevo questa passione. A me è sempre piaciuto scoprire, sono sempre stata la persona di riferimento a cui proporre qualcosa perché sicuramente ti avrebbe detto di no, a cui chiedere il consiglio. Quindi semplicemente è sempre stato qualcosa che mi piaceva fare e ho cercato semplicemente il canale per poter esprimere questa passione che avevo. E sono molto felice in realtà di poterla condividere con gli altri anche perché come dicevo Milano rispetto ad altre città, se non la si conosce bene può darti delle belle fregature. E secondo me è sapere andare in quel posto che ti fa comunque sentire a casa, che non è respingente, è comunque la città della moda, quindi ha tutta una serie di ambienti a cui non è facile accedere, magari da cui ci si sente un po' respinti. Io dico sempre che a Milano ci sono più Milano e che la puoi vivere è stato anche un po' l'hite motive del libro a livello in cui vuoi stare. Quindi io cerco di raccontare diverse facce della città, di non chiuderci soltanto nei soliti nomi, quelli dell'hype, della novità, della coolness per forza, ma di parlare anche di quartieri magari meno conosciuti, di posti magari anche più economici, più semplici, in cui appunto sentirsi a casa ho iniziato questa rubrica due o tre anni fa che si chiama Milano per tutti, che va proprio questo intento ed è stato forse una chiave di volta per farmi capire anche in che direzione volevo portare questo progetto. A Milano stiamo in tanti, ci sono diversi progetti, ognuno ha il proprio taglio. Il mio è voler far sentire accolta in una città che sicuramente non è la più facile d'Italia. E confermo, come dicevo all'inizio, che mi ha aiutato a sentirmi accolta perché è vero che soprattutto noi romani, lo confesso, abbiamo un po' questo stereotipo di Milano città chiusa in cui è difficile fare conoscenza, in cui ci sono circoli chiusi, invece in realtà i milanesi in un modo diverso dai romani sono accoglienti decisamente allo stesso, diciamo appunto con un modo diverso ma lo sono nella stessa misura. Parliamo anche della sostenibilità finanziaria di questo progetto. Certamente partire su un blog e sui social vuol dire partire a costo zero, però per farlo diventare poi un progetto, un lavoro esclusivo, la tua attività esclusiva, certamente c'è stata anche una questione di come finanziare il progetto. Assolutamente. Parliamo anche di questo? Mi piace parlarne perché è un argomento in generale su cui c'è poca trasparenza, nel senso che sarebbe molto bello che fosse chiaro a tutto il pubblico in generale come un progetto di questo genere si finanza. Ci sono diversi modi ovviamente, principalmente sono le entrate da parte delle aziende che vogliono creare dei progetti insieme a te, quindi delle collaborazioni. Quando io parlo di Milano ovviamente genero curiosità e quindi il pubblico mi segue per i miei consigli. Poi il pubblico lì è appetibile, come un tempo lo erano, anzi come lo è ancora ovviamente, come lo sono tutti i media, quindi come lo è la televisione, come lo sono gli spazi pubblicitari sui giornali. Si acquista uno spazio su un canale che ha un pubblico, sostanzialmente. Lì è poi la persona, ovviamente nel mio caso sono io, ma ci sono responsabili, agenzie che aiutano a gestire questi spazi, nel senso che hanno un costo semplicemente. E ovviamente delle regole dei paletti che ognuno di noi mette. Per esempio io ho sempre deciso di non accettare collaborazioni nell'ambito che è il mio core di consigli, quindi non accetto soprattutto collaborazioni dai ristoranti oppure da certi tipi di attività commerciali, perché su quello voglio essere indipendente appunto. Quindi voglio poter dare i consigli in maniera trasparente. Quando c'è in ballo comunque un confesso economico è molto complesso questa cosa. Sono collaborazioni magari da aziende di diverso tipo, da aziende food, aziende in entertainment, che cercano appunto uno spazio per veicolare dei messaggi che sono coerenti con quelli che veicoli tu. Nel senso che avendo una presenza online dove che è involta la mia persona, è molto facile capire quali sono le mie questioni, il mio target, le cose che possono piacere al mio pubblico e di conseguenza è automatico poi per l'azienda, soprattutto adesso che c'è più consapevolezza, andare da delle persone specifiche a seconda di quello che si vuole comunicare. Per arrivare a quella fetta di pubblico che interessa a quel brand. Arrivano già tante domande, ora le rivolgerò a Francesca, però mi fa piacere che tu abbia sottolineato il fatto che in realtà c'è poca trasparenza su come vengono gestite a livello appunto di finanziario, a livello di contratti, di accordi. Non non trasparente nel senso che c'è del sommerso, per carità, però non trasparente perché non c'è... Non si sa. Esatto. E non ci sono ancora probabilmente degli standard che vengono costruiti volta per volta. Che sarebbe molto bello ci fosse, cioè in generale sarebbe bello che fosse tutto chiaro in modo tale che si possa lavorare tutti nel modo più professionale e più produttivo, più di aiuto per tutti, nel senso che purtroppo quando non è tutto chiaro, un po' per buona fede, io ci metto soprattutto a buona fede, a volte anche non per buona fede. Insomma, ci sono poi tante cose che possono essere sfruttate, nel senso che nel momento in cui non è chiaro quello che si può e quello che non si può fare, c'è tutta una zona grigia sfruttabile e anche in cui si può essere, tra virgolette, attaccati. Invece è bello dire io sono tutelata, cioè è tutelato il mio pubblico perché sa che queste cose sono ad esempio delle pubblicità e sono dichiarate e sono tutelata io perché so che se quello è un ambito lavorativo viene considerato tale, mentre in molti casi, purtroppo ancora, non essendoci consapevolezza, ci sono persone che non si rendono conto del fatto che sia un lavoro a 360 gradi. Ma noi siamo qui apposta proprio per spiegare che il lavoro sui social è un lavoro vero. È un lavoro vero. È vero e a volte anche molto faticoso. Allora, partiamo con le domande che arrivano da Instagram. Qual è la cosa più strana e quella imperdibile che hai scoperto a Milano? Sono molto interessata anche io a questa risposta. Prendo nota. Allora, devo dire la verità che queste domande così avrucciapelo su Milano sono difficilissime, soprattutto perché quando hai un partare di idee, di consigli che dai, non so come dire, è come se avessi una nuvola di tutte le cose che puoi dire e non riesci a tirare fuori quella giusta. No, più che più strana adesso, essendo Milano un po' la città delle tendenze, è molto attenta a tutto quello che sta succedendo in ambito di sostenibilità ambientale e anche quando si parla di cibo. Quindi adesso, diciamo, la cosa sulla bocca di tutti è questo hamburger con la farina di grillo, non so se avete sentito. Che ha invaso tutti i social. Sì, che io sinceramente non ho provato, ma verso cui sono comunque curiosa perché si trovano delle strade nuove più produttive, più insomma... Sostenibili, appunto. Esatto, nel senso... Perché no? Certo. Curiosa di assaggiare? Non lo so. Mi fa un po' impressione. Tu lo proveresti? Non lo so. Anche io ho qualche dubbio. Anche se mangio qualunque cosa, però vediamo, aspettiamo di sapere quali sono gli effetti su chi lo ha già assaggiato. Altre domande. I ristoranti li testi tu direttamente si vede anche sul tuo video. Esatto, diciamo che in generale, mentre su altri ambiti di Milano ho sempre lasciato anche la parola e l'indipendenza alle altre autrici che ci sono sul blog, sui ristoranti ho sempre tenuto la palla in mano io, nel senso che il fatto che le persone si abituano al tuo gusto. Cioè non c'è una cosa... Al di là di alcuni criteri oggettivi, quando si parla di gusto, soprattutto si parla di gusto personale. Quindi se ti sei tarato su di me vuoi continuare a sentire la mia opinione, perché altrimenti è tutta un po' una confusione, una cosa che faccio a me. Magari non piaccia a te, ma se ti sei abituato al mio gusto sai che cosa aspettarti. Un'altra domanda, perché prendere questa guida? Abbiamo parlato della guida edita da Di Agostini. Cos'ha di diverso dalle altre? Allora, io penso che in generale, essendo delle guide tarate su, come dicevo prima, un gusto personale, la mia guida in affetti specie porta avanti il lavoro che io faccio anche sul mio profilo, ossia un lavoro di rendere Milano più... come si può dire? Più inclusive, in un certo senso. Quindi, innanzitutto, non è una guida canonica, quindi non ha un elenco di posti, di voce in base a delle categorie, ma è una narrazione della città, quindi di diverse facce della città. La Milano Multiculturale, per esempio, quindi le cucine dal mondo, ma anche i negozi in cui trovare il mondo a Milano, oppure la vecchia Milano, quindi troverai i ristoranti, le botteghe storiche, anche altre pagine su Instagram che magari sono... che io consiglio di seguire per trovare consigli in questo ambito. È una guida molto narrativa, molto personale e secondo me che proprio ti porta a conoscere delle Milano che su altri profili, altre guide invece non sono raccontate. Non trovi, esatto. E come mi raccontavi, in questo sforzo per rendere la città più inclusiva, c'è questo tuo obiettivo di rendere accessibile anche l'esclusivo, come mi hai raccontato, perché negli ultimi anni, nell'ultimo periodo, a Milano Puoi ha anche sviluppato dei progetti che danno dei codici sconto, delle opportunità alla community, ai follower, di seguire spettacoli teatrali, mostre, questo è tutto uno spazio alla cultura, agli eventi che è molto interessante e poi appunto dà delle possibilità concrete perché i follower hanno un posto in prima fila, come si diceva. Esatto, esatto. In realtà il fatto è che su Instagram in generale per promuovere qualcosa si dà un codice sfonto, è la stessa cosa tra virgolette più vecchia del mondo. non sono l'unica a farlo, per fortuna è molto bello in generale quando dei progetti si preoccupano diciamo di non dare solo dei consigli ma di dare anche delle opportunità. In questo senso io l'ho sempre cercato di fare nei filoni che ho seguito, quindi ho iniziato a dare non voglio fare nomi però consiglio un panettone che è uno dei simboli di Milano da sempre su un filo che secondo me è il più buono di Milano e da subito ho cercato di dare un codice sconto perché non era un panettone economico, ho cercato di appunto dare un codice che permettesse a tutti comunque di avvicinarsi a questo prodotto. Questo è un filone che poi sto portando avanti perché in generale mi piacerebbe anche supportare quelle realtà del territorio milanese che sicuramente dopo la pandemia hanno risentito maggiormente quindi cinema e teatro sono state un po' le prime due voci ma ovviamente non ci fermiamo qua il progetto appunto di creare tutta una serie di partnership proprio sul mio territorio per poter per poter seguire i consigli che do. Se i consigli sono online offline che cosa ti posso dare? Ti posso dare l'opportunità di andare ad una condizione di privilegio o anche di farti fare delle esperienze che magari non sono accessibili quindi lo spoilerino che dicevo è questo cioè stiamo cercando di lavorare sul permettere alla nostra community di accedere a qualcosa a cui non potrebbero accedere altrimenti e questo è un po' l'obiettivo di quest'anno. Bene e tra queste convenzioni di cui parlavi poi ovviamente le potete scoprire andando sui profili Instagram, Facebook e TikTok di A Milano Puoi ci sono anche biglietti scontati per cinema per teatro spettacoli a prezzi agevolati per la community una community che non lo abbiamo detto è una community che poi si incontra anche nel reale non è solo virtuale assolutamente sì noi siamo stati e in questo io ho creduto moltissimo quando ancora non si era soliti farlo la prima community su Milano che ha fatto un ritrovo di community quindi abbiamo organizzato un aperitivo in cui le persone con cui io spesso parlavo perché comunque la cosa bella dei social è appunto l'interazione quindi le persone mi scrivono ogni giorno chiedendo consigli pareri ma ti è piaciuto davvero quel ristorante ma cosa ne pensi di questo con alcune persone parlo da anni è quasi un rapporto di amicizia e questi ritrovi sono l'occasione per vedersi dal vivo per vedere a me piace molto anche il fatto che le persone vedano come sono io realmente e che sono fondamentalmente la stessa persona quindi mi piace molto questo rapporto umano e si sono creati appunto dei bellissimi legami ne abbiamo creati tre inizialmente autofinanziati quindi è stata una cosa proprio spontanea e poi è stato un progetto che è piaciuto e c'è stato anche l'inserimento di uno sponsor che ci ha permesso appunto di fare le cose anche più in grandi e anche questa è un po' una direzione che vorrai prendere certo di portare nel reale sempre più i social infatti tu raccontavi che è un po' diciamo un lavoro tra offline e online per renderli più vicini continuano ad arrivare le domande ce n'è una molto interessante in realtà tutte e due come si diventa autorevoli su questi temi perché non c'è una scuola per diventare a Milano poi allora io dico sempre che è la fiducia che le persone ti danno quindi bisogna essere coerenti nel tempo il valore più grande che abbiamo è far vedere che nel tempo perseguiamo un obiettivo ed è sempre rimasto lo stesso quindi non ci si un po' come bandiere non ci si sposta in base alle mode del momento e soprattutto quando si danno dei consigli in generale l'autenticità la veridicità di quelle parole che hai usato viene ritrovata dal pubblico è quello che ti dicevo all'inizio cioè il passaparola se è una persona di cui ti fidi ti dice segui questo blog perché lei si è fidata e si è trovata bene poi dico sempre magari puoi andare in un ristorante e non mangiare nel modo in cui ti perché non incontra il tuo gusto però ritrovi nelle parole che io ho usato una verità questa è l'importante secondo me è il tempo e infatti dico sempre il valore che abbiamo noi è la storicità c'è un progetto che è nato presto ha dato la possibilità al proprio pubblico di conoscere veramente e quando vedi magari anche delle realtà che esplodono io dico sempre con calma bisogna vedere nel tempo quelle che rimangono consistenti perché è un valore che abbiamo un valore enorme non solo nel mio progetto ma nei progetti di ogni tipo secondo me ricordo a chi ci sta seguendo su tutti i social e anche su Instagram e magari ha iniziato adesso a guardare la diretta che stiamo raccontando il progetto a Milano Puoi con Francesca Noe che è la sua founder e sempre da i social arriva un'altra domanda che avrei voluto farti io però non volevo non volevo entrare nella polemica però diciamo ha senso c'è stata recentemente questa polemica con alcuni ristoratori perché molti influencer chiedevano di cernare gratuitamente nei ristoranti in cambio di un post cosa ne pensi di questa se volete farmi litigare beh tu hai detto all'inizio che appunto sei vuoi restare indipendente quindi non non fai post sponsorizzati in questo senso io dico una cosa io sono qui in questo momento perché grazie a te o comunque alle persone che ti hanno consigliato di seguirmi tutto si è trovato appunto come dicevo prima un'autenticità in quello che si faceva quella è la strada più veloce non è la strada che ti porta lontano secondo me cioè avere la lungimiranza di dire non accetto l'invito oggi perché domani posso costruire qualcosa di più grande secondo me ti fa andare avanti bene con quell'autorevolezza di cui parlavamo e sicuramente con la prospettiva di fare altro e di non andare semplicemente a mangiare un ristorante non giudico chi lo fa nel senso sono scelte magari ci sono persone che hanno altri lavori non hanno l'ambizione di costruire un progetto editoriale sono contenti di dare quello stimolo alla propria community e anche la community l'importante è che la community secondo me sia consapevole di quello che sta succedendo se tu sai che la persona è stata invitata e che quel consiglio arriva comunque dietro un invito secondo me sono tutti adulti vaccinati parliamo di cibo non parliamo di massimi sistemi non ci vedo niente da giudicare però secondo me è proprio un discorso di strategia di trasparenza purché sia dichiarato purché sia fatto nelle regole assolutamente anche sugli altri social su facebook e su linkedin arrivano anche tanti complimenti di chi già ti segue e di solito durante le interviste chiedo qual è il ruolo dei social in questo progetto qui mi pare che sia evidente perché è un progetto nato e cresciuto sui social però visto che sei anche sbarcata diciamo relativamente di recente su tiktok vorrei chiederti qual è la differenza tra instagram e tiktok e magari il blog cioè lo stesso video che fai per instagram lo usi anche per tiktok hai feedback diversi allora secondo me sono tre piattaforme cioè secondo me sono tre piattaforme diverse e avrebbero cioè bisognerebbe pensare a una strategia per ognuna delle tre una strategia diversa contenuti diversi le persone che vanno su uno non sono le stesse che vanno sull'altro o al contrario sono le stesse persone che cercano cose diverse io credo che il blog sia ciò che ti dà quella tra virgolette autorevolezza nel senso che portare avanti un progetto editoriale insomma un blog non è più complicato però richiede proprio un dispendio di tempo e di energie cui non segue un ritorno economico quindi non è non è semplice soprattutto in questi anni però è dove c'è l'approfondimento dove c'è la volontà di condividere anche senza per forza ricevere e lì ci vanno quei contenuti ci va l'approfondimento secondo me su instagram c'è il rapporto quotidiano cioè la spontaneità di andare in un posto di dirti guarda sono stata qui mi sono trovata bene di anche fare la chiacchiera come se fossi un'amica quindi di darti anche dei consigli che esulano dal progetto mi capita a volte di condividere momenti no momenti sì proprio di parlare con le mie amiche di come sta andando quasi fosse un linguaggio metanarrativo in certi casi e invece su tiktok secondo me c'è tutta la fetta di pubblico nuovo quindi le generazioni più giovani secondo me lì ci vuole ancora più spontaneità ancora più immersione nella tua vita io in questo momento non ho una strategia su tiktok perché lo sto ancora studiando preferisco fare le cose con calma bene quando me la sentirò è sicuramente il prossimo canale su cui voglio investire anche confermo che anche il sole 24 ore su tiktok io tra le altre cose mi occupo anche di di quello con altri colleghi e l'algoritmo di tiktok è una sorta di mistero completamente diverso e quindi fai bene a sperimentare assolutamente stavo guardando ancora gli altri gli altri commenti forse su tiktok c'è anche un po' direi non lo so se sei d'accordo un po' questa questo senso un po' del mordi e fuggi cioè veramente devi catturare l'attenzione di chi ti guarda nei primi forse due secondi tre secondi un po' pericoloso a volte nel senso che almeno quello che sento io quando cerco di fare qualcosa è ma io ti sto dando un consiglio perché è una cosa valida o sto andando in un posto che può essere abbastanza catchy per diventare virale cioè io non voglio questa è una cosa che proprio non farò mai cioè di dover sottostare a dare dei consigli perché so che funzioneranno no sarà la morte del mio profilo so che magari cresco meno lo so a livello numerico ma il mio pubblico mi segue perché i miei consigli sono validi non posso dover creare un pubblico perché i consigli che do sono catchy e diventano virali cioè stiamo girando bisogna avere dei punti fermi dei paletti che si danno per continuare a essere credibili che è il discorso che facevo prima non farti allettare da quella cosa che sai che funzionerà adesso addirittura io mi rendo conto che è molto proattivo i social sono proattivi cioè si aprono si organizzano mostre si aprono posti perché sai già che diventeranno virali che sono dei set rifungo esatto dei set per Instagram e per TikTok non è il mio profilo ecco ce ne sono altri che sicuramente da questo punto di vista funzionano per quello io dico devo trovare una strategia che funzioni per me su TikTok perché quella cosa lì io non la posso fare certo se vuoi chi nasce dopo da questo punto di vista è facilitato perché si deve costruire un personaggio da zero nel mio caso io ho già tutta una serie di cose che ho comunicato negli anni e devo portarle coerentemente anche su un media nuovo e con un linguaggio nuovo però devo rimanere io questo è un po' è complicato sì è faticoso però sicuramente come dicevi all'inizio alla lunga alla lunga paga e poi mi ricordo proprio sul tema dei ristoranti ho visto che c'è un'altra domanda su Instagram sul tema perché i ristoranti sono sempre il topic che attira mi ricordo che qualche mese fa uscirono dei dati che dicevano che soprattutto le giovani generazioni non usano più Google per cercare anche dove andare a mangiare dove andare a fare shopping ma usano TikTok come fosse proprio un motore di ricerca quindi a maggior ragione da questo punto di vista TikTok funziona benissimo è veramente incredibile sì io vedo per esempio nel mio caso parlo di Instagram quando creo dei contenuti altri profili hanno un grande numero di like un grande numero di salvataggi se si vedessero i salvataggi il mio engagement sarebbe molto diverso da far vedere i like nel senso che le persone lo salvano addirittura a volte vedo anche da amici da persone che conosco personalmente che hanno le loro cartelle con i miei consigli cioè con i post salvati in base alle categorie è una cosa molto carina però sì ma io stessa molte volte trago ispirazione assolutamente da Instagram infatti dico sempre gestitelo bene il vostro profilo soprattutto i locali le attività commerciali perché passa tantissimo da lì e dire nel 2023 sei già in risardo quindi al contrario esserci e farlo bene semplice ma bene secondo me porta e questo è un aspetto che volevo evidenziare anche nel progetto di Francesca che è questa possibilità anche che dà alla realtà magari meno conosciute le realtà non so più artigianali o più di nicchia di avere una vetrina comunque una possibilità di essere conosciuti allora noi ci avviamo purtroppo verso la fine della nostra intervista però voglio porgerti quest'ultima domanda da Instagram quali sono i criteri per dire che un ristorante è eccellente una domanda da 3 milioni di dollari allora dipende eccellente è un aggettivo che si può declinare in troppi ambiti eccellente dal punto di vista del fine dining quindi stiamo parlando puramente del menù della cucina oppure del servizio forse secondo te quali sono forse gli aspetti più importanti allora per me sinceramente è di mangiare qualcosa che mi sorprenda qualcosa che non ho ancora visto ed è molto complicato secondo me in un momento in cui la ristorazione è un po' in stand by perché appunto con tutte le problematiche che stiamo vivendo dal punto di vista della sostenibilità e non so anche economica dei ristoranti perché ristoranti di alto livello fanno molta fatica vediamo ha chiuso il Noma è arrivata ieri l'altro ieri la notizia che anche il Sant'Ubertus 3 stelle Michelin San Cassiano ha chiuso insomma è un momento duro quindi secondo me più che pensare eccellente bisogna pensare a chi è abbastanza all'avanguarda da capire in che direzione si deve andare e io vedo in certi locali una visione un po' più lungimirante contro lo spreco con una filosofia appunto di alimentazione che non guarda solo non si resta l'occhio solo al lusso a me piace quell'ambito lì cioè piace la innovazione comunque l'attenzione e l'avanguardia sia in cucina che in quello che viene proposto la filosofia e questo che stai dicendo è perfettamente coerente volevo fare un riferimento a una notizia che abbiamo pubblicato ieri sul Sole 24 ore che negli ultimi due anni dall'inizio due o tre anni dall'inizio della pandemia sono scomparsi 4.800 tra bar hotel ristoranti discoteche cioè esercizi che non hanno resistito purtroppo alla crisi dovuta alla pandemia ai costi delle materie prime dell'energia e che quindi la credi lunga esatto e hanno dovuto anche riconvertire il loro modello di business e quindi mi ritrovo molto in quello che dici allora purtroppo dobbiamo salutarci e allora io chiudo con la domanda che con cui sempre mi piace chiudere la puntata di Stories di Successo un consiglio per qualcuno che vorrebbe fare quello che stai facendo tu allora è un po' quello che è rissuto di quello che ho detto secondo me in questa bella mezz'ora io credo che bisogna avere una idea cioè una idea è qualcosa che veramente su cui siete o molto competenti o molto appassionati qualcosa di verticale che vi interessi portarlo avanti sempre con coerenza e con consistenza con costanza nel senso che sto impappinando con queste parole ma la verità è che bisogna esserci esserci sempre giorno dopo giorno e creare delle belle relazioni cioè essere affiancate da delle persone sia potenzialmente un team quindi qualcuno che supporti sia proprio relazioni con altre persone che sono in questo mondo con cui veicolare eventualmente ecco dei messaggi e questo è un po' quello che io farei se iniziassi adesso bene allora grazie a Francesca Noè che è la founder di A Milano Puoi la potete seguire sui suoi canali Instagram e grazie anche per avermi aiutato a diventare un pochino più milanese grazie a te per la fiducia davvero potete come al solito rivedere questa puntata di Stories di Successo oltre che sui feed dei nostri social anche sul sito del Soleventilato di quattro ore grazie ancora a Francesca e noi ci vediamo martedì per una nuova puntata di Stories di Successo grazie a tutti grazie a presto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti